L'obiettivo della regione è far partire il prima possibile i cantieri per il ripristino delle coste devastate dalle mareggiate del novembre 2018, ma ancora manca il via libera del governo al piano da 13 milioni e 200 mila euro pronto dal 21 dicembre. Lo ha detto il presidente Enrico Rossi nel palazzo della provincia a Grosseto, dove insieme all'assessore regionale all'ambiente Federica Fratoni ha fatto il punto sul ripascimento delle coste con i rappresentanti dei comuni di Piombino, Follonica, Scarlino, Castiglione della Pescaia, Orbetello, Capalbio e Isola del Giglio. Siamo un po' preoccupati perché se non viene approvato questo piano che noi abbiamo mandato a dicembre, il 21 dicembre, non potremmo partire. Però confido che le nostre lettere, le nostre sollecitazioni, adesso scriverò anche a nome e per conto insieme a tutti i sindaci della costa che hanno questi problemi e solleciteremo ancora, confido che ci venga una risposta positiva. Presidente e Assessore hanno ribadito anche la necessità di concordare regole comuni e trasparenti per l'assegnazione dei lavori e per garantire che le ditte a giudicatarie li avvino in tempi rapidi. Dobbiamo essere veloci per realizzare gli interventi in vista della prossima stagione balneare che è vero manca ancora un po' di tempo ma poi non troppo per fare tutto quello che abbiamo in mente e tutti gli interventi che abbiamo programmato. Grazie. 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 Grazie.